11 febbraio 1990. Dopo 27 anni si riaprono le porte del carcere per Nelson Mandela, leader dell'anti-apartheid in Sudafrica. Mandela è l'eroe della lotta contro il razzismo, un esempio per l'Africa e per il mondo intero, premio Nobel per la pace nel 1993. Il 18 luglio 2008, per i 90 anni di Mandela, è stato organizzato un mega concerto in Hyde Park a Londra, cui hanno assistito 46.664 spettatori, esattamente il numero che per 27 anni Mandela ha portato Cucito sulla propria uniforme da carcerato. Arrestato nel 1953 con la...